Tra salite e discese, il campionato del Praia riparte ancora una volta sabato dall'anticipo contro la Mantea. La corsa della compagine bianca-azzurra in questa stagione non è stata caratterizzata dalla continuità, ma nonostante tutto un posto nei play-off è ancora raggiungibile. La squadra si è lasciata alle spalle la sconfitta di Corigliano con qualche rammarico. Anche un punto poteva essere prezioso proprio per non vedere allontanarsi la squadra ionica. Contro la Mantea, che lo scorso anno sconfissa il Praia in casa dopo una lunga imbattibilità, ci si attende un'altra prova gagliarda. E lo scontro diretto tra le due formazioni a quota 39, chi uscirà con i tre punti dalla sfida del Mario Tedesco, potrà candidarsi seriamente ad insidiare l'ultimo posto valido per gli spareggi, oggi occupato dal Cremissa a quota 42 con una gara in meno e atteso domenica dalla gara interna contro il Cetraro che potrebbe non giocarsi. Tornando alla gara del Praia, l'assenza di Zuccarelli non è certo una buona notizia, visto che il centrocampista argentino, oltre alle geometrie in mezzo al campo, è stato finora prezioso anche in zona gol. Al suo posto potrebbe scendere in campo dal primo minuto un altro sudamericano, Mattias Villaruel, già a segno in casa contro il Cremissa. Ma in zona gol il Praia spera di ritrovare la vena realizzativa del capitano Andrea Forte. L'ultima rete messa a segno dal numero 10 risale infatti all'11 febbraio scorso quando siglò il vantaggio nella partita persa poi contro la Promosport. Quella contro la Mantea sarà l'ultima gara giocata al sabato per il Praia. Dopo la sfida contro i Blucerchiati e prima della sosta pasquale, la compagine bianca-azzurra è attesa dalla trasferta di Crucoli, poi gare interne contro Cetraro e Fuscaldo intervallate dal derby di ritorno contro il Cat.